François Leca, uno dei migliori in campo domenica contro Cucine Lube e Civitanova. Bella prestazione, lo abbiamo detto anche con gli altri, con il mister, con Davide Marra, con Peter Vedish. È mancato solo il risultato, sono mancati solo i punti. Sì, è un po' un peccato perché l'intensità c'era, abbiamo giocato bene. Dobbiamo dire che anche Maceratana non era il suo migliore livello, però questo è lo sport. Era peccato perché c'era una bella scelta di prendere i punti. Però avevamo degli obiettivi prima della partita, che abbiamo raggiunto, abbiamo vinto un set. Tutti i set erano molto difficili anche per loro, quindi secondo me è un passo davanti, quello dobbiamo guardarlo. Dobbiamo sapere che abbiamo perso un'opportunità dei punti, però non è grave e adesso dobbiamo lavorare per fare un altro passo. Dal punto di vista personale abbiamo visto anche un Leca in netta crescita, non solo per i punti realizzati, ma proprio per la continuità che hai messo, soprattutto anche nel terzo set sei stato insieme ai tuoi compagni, tra i trascinatori. Hai sentito anche la carica del pubblico e anche della partita magari? Sì, penso che quando eravamo 2-0 sotto le tifosi erano sempre di là, quindi questo dà una forza per noi assolutamente. Quindi sì, sì, era fantastico giocare davanti a loro. Insomma, comunque abbiamo visto una squadra increscendo, sia dal punto di vista dei singoli che del gioco. C'è stata una bella reazione dopo il K.O. contro Ravenna. Forse è il miglior viatico per il proseguimento della stagione, per Piacenza e le prossime partite? Sì, però nello sport niente acquisto, quindi non dobbiamo essere felicissimi e fare una settimana tranquilla. Penso che è un bel passo nella buona direzione, però è il primo passo di una camminata, si dice così. Quindi dobbiamo essere ancora a focus e non lasciare cosa abbiamo appreso da questa partita, però avere la fame di imparare e di fare nuove cose anche. Grazie François Leca e buon lavoro per i prossimi allenamenti. Grazie a voi, ciao.